Le chiese? Ma di chiese ce ne sono quante ne vogliamo, sia in Milano, Lombardia, diciamo in tutta Italia. E allora vediamo per esempio che c'è l'ultima cena, però si sa che l'ultima cena è un elemento importante dell'offerta turistica lombarda e milanese, però non è stata contestualizzata all'interno di un'esperienza più allargata. Ma per esempio pochi sanno che a Milano c'è il codice atlantico di Leonardo. Il codice atlantico è la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci che comprende oltre mille fogli raccolti in 12 volumi conservato alla biblioteca ambrosiana. Ecco, quante persone sono andate tra i turisti che vengono a visitare Milano, per esempio, alla biblioteca ambrosiana, che è un posto spettacolare, meraviglioso. Milano però è anche la capitale del design. Milano è moda, arredamento, arti figurative, comunicazione, pubblicità, ristoranti innovativi, locali e vita notturna. Ma Milano, per esempio, non fa parte, e la Lombardia non fanno parte dei progetti della Creative Cities di UNESCO, che per esempio hanno diversi temi e che hanno tra le città del design, Buenos Aires, Kobe, Seoul, Berlino, Shanghai, eccetera. E quindi da questo punto di vista, lavorare sull'esperienza vuol dire anche entrare in certi circuiti. Perché il turismo motivazionale si muove per circuiti. Infatti qualcuno ieri mi diceva che il Salento non rientra in alcuni circuiti. I circuiti sono importanti perché i circuiti ti consentono quindi di avere una movimentazione di turisti. Pensate quindi ai circuiti del turismo sportivo, che quindi portano, anche automaticamente, per il fatto che uno è inserito in questi circuiti, dei visitatori, dei viaggiatori. Ma i circuiti non sono soltanto circuiti di offerta, sono anche circuiti legati alle comunità in rete. Ok? E quindi da quel punto di vista, per esempio, io mi chiedo, ma quanto quel tipo di offerta è significativo per gli elementi chiave che influenzano la comunità del design? Allora, in questo caso, che Milano sia una capitale del design è naturalmente universalmente riconosciuto. Non è un problema. Perché c'è il Salone del Mobile, è un evento, il fuorisalone è un evento internazionale. Vengono tantissime persone per questo. Però nonostante questo, non c'è l'inserimento nei circuiti, non c'è la relazione con le community, non è costruita un'esperienza intorno a questo. E quindi questa è una vocazione che c'è e che è espressa non nella sua potenzialità, non in toto. Si può fare di più ancora rispetto a quello che è la potenzialità. E quindi c'è un lavoro da fare, quindi non soltanto sulla progettazione dell'esperienza, ma sulla costruzione di relazioni con i miei pubblici, che sono quindi quelli interessati a quel tipo di esperienza. Parlando invece di hotel, è evidente che stiamo ragionando oggi in logiche su internet totalmente indistinte, indifferenziate e di prezzo. E allora, da quel punto di vista, chi è che vince in questa competizione? Guardate lì, qual è l'hotel che cliccate? Non c'è possibilità. Allora, in questa possibilità, il problema è che magari voi siete più cari per una ragione, ma voi siete mortalmente penalizzati. Perché non vi cliccano. Perché l'elemento che viene esposto è il prezzo. E quindi da quel punto di vista non avete neanche la possibilità di esporre le ragioni. Ovviamente vale questa logica nei vari segmenti di prezzo. Anche nel segmento luxury il prezzo è comunque importante. E allora, per chi non ha la possibilità di comunicare, vediamo che l'attenzione è il primo elemento competitivo. Siamo competendo per l'attenzione. E quindi fondamentalmente ci sono tanti hotel di questo elenco che non arrivano neanche all'utente. Perché vengono filtrati da una logica che li discrimina. E noi dobbiamo uscire da questo. E quindi l'analisi della vocazione significa anche interloquire con delle persone per cui il prezzo non è l'elemento principale, ma che sono disposte a riconoscervi qualcosa per un elemento del vostro sistema di valore di offerta. E qual è questo valore di sistema di offerta? E per chi? Questo è esattamente quello che noi dobbiamo definire nell'analisi della vocazione. del territorio o dell'offerta. E quindi l'analisi della vocazione turistica dell'offerta consiste nel comprendere quali sono le peculiarità distintive, specifiche e difficilmente imitabili che possono rendere unica l'offerta. E se queste non ci sono vanno progettate, vanno costruite. Parliamo quindi di vocazione turistica in quanto termine che indica l'inclinazione naturale del preponente. E quindi come i turisti mostrano delle vocazioni, anche chi fa l'offerta ha delle vocazioni. Quella persona di cui parlavo prima, che fa turismo sportivo in bicicletta, lo fa perché la sua vocazione è perché lui è un ciclista. E quindi da quel punto di vista è evidente che lui si è specializzato a partire da quella vocazione che lui aveva già. La conoscenza di quel mercato, ma anche la conoscenza di uno sport che è la sua passione. Ma tutti gli altri che non hanno una vocazione, la vocazione la devono trovare. E quindi questa vocazione è importante e deve essere comunicata. Perché altrimenti rimaniamo nella genericità e quindi nella competizione totalmente basata sul prezzo. E quindi la vocazione in generale, ve lo farò vedere con elementi visivi molto banali, ti dà anche dei segni distintivi immediatamente riconoscibili. Da questo punto di vista, se io avessi una campagna di comunicazione così e vi tolgo il nome, voi riconoscete il luogo? Quindi vuol dire che qui ci sono degli elementi forti che sono quindi fortemente distintivi, fortemente caratterizzanti. E stessa cosa per Ibiza. Però questi elementi caratterizzanti, in questo momento sono elementi visuali. Ma noi non lavoreremo su elementi visuali, legati necessariamente soltanto a simboli. Lavoreremo su elementi caratterizzanti dal punto di vista esperienziale. E quindi dicendo, il Salento è il paradiso per queste persone perché questa esperienza fatta in Salento è unica al mondo. E quindi va ben oltre a quello che è una rappresentazione di elementi di offerta o di elementi di identità visiva. Quindi è importante comprendere in profondità la vocazione turistica in quanto spesso si basa sul consolidamento della cultura locale oppure aziendale e su quanto condiviso a livello valoriale. Quindi non si butta ciò che si è costruito, ma gli si dà ordine. Quindi non si butta ciò che c'è già. Non è che si dice ricostruiamo tutto, riprogettiamo. Si valorizza tutto quello che si possiede. Però viene messo in ordine. E viene differenziato in funzione di specifici pubblici. E quindi non mostro a un pubblico una cosa che è fortemente identitaria ma che non gli interessa. Devo essere rilevante. Vocazioni di offerta turistiche per le destinazioni sono tutti quegli elementi quindi che storicamente sono consolidati nella cultura e nella tradizione della proposta turistica, la natura, l'arte, la cultura, lo sport, l'inogastronomia. E quindi è da quella ricerca delle eccellenze che io devo partire. Ma anche per gli operatori esiste quindi un'analoga vocazione turistica che parte quindi anche da desideri di specializzazione, da curiosità e quant'altro. Per cui si riesce quindi a identificare questi elementi su cui gli operatori per esempio decidono di lavorare al di là della vocazione del territorio ma anche in funzione di quello che loro ritengono essere una caratteristica del valore del loro sistema di offerta. Ma qui naturalmente bisogna entrare nel dettaglio e quindi lavorare sulle motivazioni e quando si lavora per segmenti specifici purtroppo o per fortuna, dipende da come lo volete vedere, ti obbliga ad andare in profondità. Questo è un caso per esempio di un operatore turistico che propone per esempio tour gourmet. Voi dite benissimo il tour gourmet che è un viaggio magari culinario, enogastronomico e quant'altro è già una nicchia. Ecco, è una nicchia dal punto di vista del turismo indistinto ma per il turismo enogastronomico questo qui è un generalista. E quindi da quel punto di vista questa offerta non è caratterizzata. E quindi è un'offerta, vedete, c'è un po' di tutto e di più. E quindi da quel punto di vista questa è un'offerta interessante per un pubblico generico che vuole provare quel tipo di offerta. Ma se io già entro sul specialista e sull'appassionato, devo lavorare su un livello di profondità maggiore. E quindi quello che sembrava un'offerta, diciamo, verticale, alla fine non lo è. Pensate, quindi all'estero addirittura abbiamo i tour in Mongolfiera. Ma la segmentazione delle diverse tipologie di tour in Mongolfiera. Prendiamo, per esempio, gli inglesi che da questo punto di vista sono assolutamente all'avanguardia per quanto concerne offerte turistiche segmentate. A noi sembra, per esempio, che il turismo single sia un segmento, ok? Che sia un segmento abbastanza specifico, non è più generico. In Inghilterra non è più così. Il turismo single to crew è già presidiato. Da noi ci sono pochissimi operatori che fanno viaggi per single e già sono considerati di nicchia. In Inghilterra questo è Solos, the number one single holiday company. Però poi c'è un altro che dice, no, siamo noi the number one. E quindi c'è Friendship Travel e ce ne sono altri che sono specializzati nel turismo single. E allora che cosa succede? Anche quest'altro è the UK number one for single travelers. Che bello, ma quanti number one ci possono essere? E allora che cosa hanno fatto quindi gli inglesi? Quando hanno visto che questo cominciava a essere quindi un mercato affollato, hanno lavorato sulla ipersegmentazione. E quindi da quel punto di vista, per esempio, qualcuno ha detto, noi facciamo viaggi per single dai 35 in su. Dai 35 ai 45. Perché evidentemente non puoi mettere in single un ventenne con un 45enne. Ma anche questo risultava essere quindi troppo generico. E quindi qualcun altro ha fatto un'altra segmentazione. Adventure company. La company per i single che vogliono conoscere una persona avventurosa e possibilmente che non fuma. Voi ci ridete, ma il mercato inglese, a un certo punto il mercato diventa sofisticato, si riempie e quindi impone un'ulteriore segmentazione. E quindi abbiamo the adventure company. Sempre single. Però poi ci sarà naturalmente quell'altra di persone culturali. Eccetera, eccetera. Per cui io voglio, sono una persona che non vuole fare niente. E quindi, infatti, il grosso problema oggi, lo vedete anche nei meccanismi, tutto nasce da internet, di dating. Qui dicono, una volta si diceva, voglio una ragazza carina. E dicevo, voglio una persona alta, si diceva. Oggi dicono, la voglio. Si costruisce qua, diciamo, su misura, anche possibilmente che faccia arti marziali con una specializzazione magari di Ki Kong, se fosse possibile. E quindi le persone stanno diventando sempre più, diciamo, esigenti. E quindi l'ipersegmentazione è una realtà. E' una realtà che nasce da internet, che mette possibilità. E quindi quando è che arrivi all'ipersegmentazione e torno quindi all'innovazione? Quando hai una tensione competitiva. Quando vedi che questo tuo mercato si sta restringendo e quando vedi, allora lì devi quindi lavorare ulteriormente. E come lo fai? Con due strategie che noi vedremo, che definiamo segment enlargement e segment enrichment. Il segment enrichment è questo che abbiamo visto, di approfondimento della segmentazione. Segment enlargement vuol dire offrire l'offerta a altri pubblici, allargando quindi l'offerta. Quindi la vocazione che noi abbiamo visto, dei territori, deve essere interpretata. Perché così com'è, non garantisce l'offerta. Cioè, la mia vocazione, la chiesa, non è un'offerta. E quindi intorno alla chiesa posso costruire un'offerta. ma non solo di turismo religioso, non solo di turismo spirituale, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista io posso incrociare diverse variabili per costruire un numero significativo di offerte. Quindi la vocazione interpretata è l'incrocio tra la vocazione turistica con i temi esperienziali che permettono la costruzione delle esperienze turistiche. E adesso ci arriviamo. Creare quindi un'esperienza turistica significa pertanto offrire un'interpretazione originale, autentica, di ogni elemento di offerta in grado di creare valore esperienziale per i segmenti di mercato identificati. E quindi man mano quelle che sono parole che sembrano astratte, si restringono quindi sempre di più a definire quindi gli elementi della mia esperienza. Ecco che quindi le diverse vocazioni di un territorio vengono analizzate, scomposte e ricomposte per soddisfare le esigenze di chi vuole visitare quindi la mia destinazione. E allora che come faccio io per esempio a innovare? Facendo una combinazione di offerte turistiche oggi che sono costruite in maniera verticale ricombinandole, facendo quello che tecnicamente viene chiamato mashup. E quindi mescolando praticamente elementi di offerta. E quindi già ricombinando quello che ho in modo nuovo, io costruisco nuove offerte a partire da quelle che ci sono già senza dovere quindi costruire offerte nuove. Ed è il primo lavoro che noi facciamo quindi di ricombinazione. Il primo lavoro, anzi il secondo, il primo lavoro è quello della classificazione delle offerte in ottica esperienziale secondo la ricombinazione. E attraverso quindi la ricombinazione già di diversi elementi, diversi pesi dei diversi elementi possiamo già costruire un numero estremamente significativo di nuove offerte. Dobbiamo naturalmente rivoluzionare le categorie perché le categorie sono trappole, sono schemi che sono rigidi. Invece se voi andate su internet vedete che le persone non dicono io sono, eccetera. Noi abbiamo fatto quindi delle offerte riprogettandole, ve le farò vedere, per esempio sul Giappone per i nerd, Giappone per gli appassionati dei manga e della cultura otaku, Giappone, eccetera, eccetera. Quindi dando chiavi di lettura totalmente diversi in funzione del tipo di pubblico. Quindi questo è il lavoro più difficile, quello di rivoluzionare le categorie, gli schemi mentali e le classificazioni già conosciute. Questo è turismo religioso, questo è turismo ciclistico, questo sì, però possiamo anche ricombinare le cose mettendo pezzettini di diversi elementi di offerta appunto come dicevo prima ricombinati. Quindi prendiamo alcuni esempi, questo è il monastero di Bose che non solo turismo religioso ma anche una possibilità per manager stressati per ritrovare se stessi. E quindi da quel punto di vista mi è capitato una volta che io ho fatto una riunione in un monastero di business perché avevamo bisogno di quattro giorni per elaborare una strategia. E quindi da quel punto di vista amico, ospite o pellegrino vieni a Bose per tanti motivi forse cerchi un luogo in disparte per riposare un po' con una collina di fratelli e sorelle per saggiare insieme la vita comune un silenzio, meditazione oppure semplicemente ritrovare quindi un momento per riflettere e quindi da quel punto di vista l'offerta di questo tipo può essere declinata su un pubblico ampio e differenziato di persone. Quindi si possono quindi rivedere totalmente le offerte. Bisogna naturalmente lavorare sulla vocazione dell'offerta turistica perché questo consente di realizzare proposte che sono connotate da elevati livelli di autenticità. Si può naturalmente in caso, in alcuni casi lavorare su vocazione ex novo ma questo accade in rari casi proprio laddove non c'era un'offerta preesistente. E voi vedete per esempio che il caso di Abu Dhabi il caso di Las Vegas sono tipiche offerte costruite a tavolino. Non c'era niente, c'era il deserto e quindi da quel punto di vista è tutta progettazione. Però è molto difficile da quel punto di vista perché è facile fare relativamente a Abu Dhabi facendo il di tutto e il di più però è quanto costa. Costa molto dal punto di vista degli investimenti. Devi fare il più alto grattacielo il più grande shopping center e quindi non tutti hanno la possibilità anche economica di poter fare un lavoro di questo tipo. E poi soprattutto la maggior parte dei territori hanno già degli elementi consolidati su cui lavorare. Quindi è difficilissimo sono rarissimi i casi in cui si lavora ex novo. Quindi si contano sulle dita di una o due mani. Quindi abbiamo detto Las Vegas è un esempio. L'altra cosa naturalmente è la modalità con cui si fa l'analisi della concorrenza. e quindi come si guarda la concorrenza con quali occhi e quindi si guarda l'offerta dal punto di vista tematico dal punto di vista della modalità di esecuzione eccetera. Quindi sono tanti livelli per poter ragionare in un'ottica di analisi della concorrenza. Una volta che noi abbiamo quindi analizzato la vocazione e abbiamo lavorato sul benchmark della concorrenza abbiamo costruito quindi uno scoring di possibilità diciamo competitive costruendo quindi una mappa di posizionamento su cui entreremo quindi a a parlare. Però questa mappa di posizionamento è una mappa incompleta è una mappa che non prende in considerazione i mercati e i segmenti. Ecco perché la seconda parte della metodologia consente la costruzione quindi di un elemento utile per questa mappa di posizionamento che è relativa all'analisi dei segmenti e della segmentazione. La corretta segmentazione è fondamentale per affrontare con successo il mercato per differenziare in maniera marcata l'offerta e la comunicazione soprattutto web e quindi noi stiamo ragionando moltissimo in ottica di coda lunga come abbiamo visto ieri cercando quindi di capire quali sono i segmenti interessanti soprattutto anche che sono esistenti e non esplorati. Ce ne sono tanti che noi abbiamo trovato che sono totalmente come dire non serviti. E quindi poiché si è passati dal turismo di massa indifferenziato e generalista ai turismi personali che sono fortemente orientati a specifici bisogni di tipo motivazionale di tipo vocazionale è necessario rivedere la segmentazione attuale. Non rivedere il concetto il concetto rimane valido ma rivedere le basi di segmentazione e quindi affiancare a quelle che non dovessero essere significative nuove basi che invece possono essere diciamo più utili. E quindi la segmentazione tradizionale oggi è entrata in crisi recentemente soprattutto negli ultimi vent'anni soprattutto per motivazioni diverse. Il bisogno di una maggiore personalizzazione. La digitalizzazione dei media ha portato quindi al cambiamento da parte dei pubblici che chiedono per esempio in generale contenuti personalizzati e quindi come chiedono contenuti personalizzati hanno iniziato a esprimere esigenze personali e quindi internet ha permesso la costruzione di comunità di interesse comunità di valori comunità di self-help che hanno sviluppato linguaggi specifici necessità specifiche e quindi bisogni del tutto specifici. e quindi questa maggiore personalizzazione richiede quindi contenuti e offerte sempre più mirate. In secondo luogo l'aumento dell'offerta internazionale ha fatto sì che i nuovi entranti avete visto Kazakistan Perù eccetera eccetera non entrassero con offerte generiche ma con offerte molto specifiche. non so se siete stati al BIT di Milano l'anno scorso l'Etiopia ha proposto un'offerta di tracking estremo l'Etiopia ha proposto venite in Etiopia eccetera e dato che loro hanno pochi mezzi hanno dovuto come dire utilizzare questi mezzi per attirare dei pubblici specifici e per come si dice mirare giusto perché quando tu hai pochi soldi cosa fai scegli concentri esattamente quindi questa pressione internazionale ha portato quindi ai nuovi entranti a portare sul mercato offerte molto specifiche lo vedremo e quindi queste offerte turistiche hanno creato questa pressione avete visto per esempio vi ho fatto vedere questi esempi dei singoli inglesi che addirittura si sono subsegmentati infine i target tradizionali attuali sono troppo ampi e sono troppo poco definiti e quindi non puoi costruire un'esperienza sulla base degli elementi che scaturiscono da una segmentazione tradizionale che è veramente troppo ampia pensate quando io dico donne dai 18 ai 25 che cosa vuol dire pensate per esempio oggi a una classe a un liceo a un liceo a una terza liceo dove all'interno della terza liceo della stessa scuola della stessa città ci sono magari quattro sottosegmenti diversi vestiti in maniera diversa con gusti completamente diversi che ascoltano musica diversa quindi altro che il segmento 18-25 pensate alle mamme non esiste il concetto di mamma ci sono quindi mamme diverse ci sono quindi mamme al primo bambino mamme al secondo bambino mamme che hanno il bambino adolescente mamme che hanno il bambino in età prescolare con motivazioni completamente diverse nel modo in cui considerare per esempio l'educazione e quindi questi segmenti sono troppo ampi non ci aiutano pensiamo quindi al segmento famiglie oggi ne esiste quindi una moltitudine di famiglie ma anche il turismo giovanile il turismo single eccetera eccetera quindi ogni segmento di mercato rappresenta rappresenta molto di più che un insieme di individui caratterizzati dalle stesse caratteristiche sociodemografiche ma rappresenta anche un insieme di modelli di valore metodi di discernere tra offerte diverse e quindi esplorando il web vediamo in tutta la sua varietà quanto in profondità si arrivano a spingere quindi i segmenti noi arriviamo quindi a compiere dei lavori di ipersegmentazione che hanno dell'inverosimile e poi ve lo posso far vedere si arrivano quindi a cose molto interessanti però non ci dobbiamo mai dimenticare questo discorso della massa critica quindi dobbiamo arrivare quindi a un livello di segmentazione che ci consente comunque di raggiungere questa famosa massa critica e questa massa critica dipende dalla scala del nostro progetto quindi la focalizzazione diventa un elemento fondamentale per la creazione di valore focalizzazione su specifici segmenti che hanno bisogno quindi di offerte molto molto specifiche e quindi la focalizzazione ha come scopo quello di ottenere un premium price e quello che era un tempo una delle opzioni che il marketing offriva oggi è diventata quindi una scelta pressoché obbligata quindi le offerte diciamo generiche a meno che siano realmente distintive oppure fortemente legate a una competitività sul prezzo non sempre sono quindi alla portata di tutti allora noi arriviamo oggi partendo dall'offerta tradizionale e quindi dall'offerta tradizionale noi lavoriamo sui segmenti in due modalità possiamo o quindi partire dall'offerta tradizionale e allargarci oppure invece decidere di costruire un'offerta ad hoc su nuovi segmenti ok sono due possibilità le affrontiamo tutte e due per quanto concerne l'allargamento sono due le possibilità su cui noi possiamo quindi lavorare bene la prima si chiama segment enlargement ossia individuare nuovi possibili segmenti a cui proporre l'offerta turistica oppure arricchire questa offerta turistica con un livello di approfondimento e questa scelta questa opzione viene chiamata segment enrichment un approfondimento l'esempio che avete visto dei single è un tipico caso di segment enrichment di scelta di profondità quindi questa scelta viene poi presa in funzione quindi delle opportunità della determinazione quindi degli obiettivi specifici del progetto turistico l'approfondimento quindi dei target suddividendoli in sotto target maggiormente omogenei viene chiamato segment enrichment come vi facevo vedere con maggiori informazioni specifiche su bisogni ed esigenze rilevanti vi faccio un esempio esiste quindi un target di hotel in generale per famiglie generico ma esiste quindi una catena di hotel diciamo dell'Alto Adige e della in questo caso ci sono i famiglie in hotel diciamo tedeschi ci sono anche altre catene che però si sono sviluppati diciamo sempre in Alto Adige che hanno deciso di focalizzarsi su famiglie che hanno bambini in età prevalentemente dai 0 ai 5 anni quindi non che poi l'offerta non vada bene per bambini più grandi ma questi rappresentano quindi l'elemento core del loro diciamo posizionamento questa è una catena per cui quando io avevo figli piccoli mi mandavano sempre il materiale io prenotavo e mi arrabbiavo immancabilmente perché mi dicevano tutto esaurito e io dicevo non mi mandare il materiale dico ma tu devi prenotare prima e quindi sono arrivato a prenotare un anno e mezzo prima perché era sempre tutto esaurito questi hotel hanno per esempio i famiglian hotel dell'Alto Adige hanno un disciplinare di qualità ok e quindi delle caratteristiche molto stringenti avendo analizzato quindi il loro pubblico di riferimento quindi che cosa hanno fatto hanno fatto dei disciplinari differenziati per livello di diciamo di qualità ci sono dei disciplinari che sono uguali per tutti e poi ce ne sono alcuni invece che rappresentano quindi gli hotel eccellenti e quindi questi disciplinari possono essere quindi giallo arancione e rossa vediamo un attimo i disciplinari diciamo generici che dicono tutti i 26 famiglie in hotel hanno le seguenti prestazioni minime arredamento pensato per bebè e bambini noleggio gratuito di passeggini e zaini portabebè vari menu per bambini a base di prodotti altoattesini buffet ad altezza di bambino minibar per bambini durante il miniclub poi vi dico il miniclub è almeno in tre lingue per cui deve essere in italiano in tedesco e in un'altra lingua area esterna sicura libera dalla circolazione di veicoli con accesso diretto dalla struttura parco giochi avventura e aree per bici queste sono le prescrizioni di base ma poi se poi andiamo in quelli diciamo eccellenti abbiamo visto che hanno analizzato nel dettaglio il cibo dei bambini lo spazio giochi l'assistenza l'arredamento pensate che nell'hotel dove sono andato io c'era quindi la piscina la piscina aveva gli accappatori di bambini gli accappatori dei bambini avevano quindi la ciambella e la ciambella si divideva con i personaggi dei cartoni animati per bambini e per bambine differenziate utilizzando quindi cartoni animati che in quel momento piacevano di più e quindi avevano fatto quindi uno studio sull'esperienza anche sui bambini non vi dico per esempio la possibilità quindi di scaldare il latte i scaldabiberon il baby monitor che veniva dato le pappe naturali eccetera avevano studiato tutto quel pubblico e allora pensate che quando io mi sono prenotato perché mi interessava quel tipo di esperienza sono andato a vedere non era il primo prezzo come ci sono anche altri hotel di questo tipo che sono molto specializzati e che quindi hanno analizzato con dettaglio l'esperienza quindi diciamo dei loro pubblici ma oltre alla volontà di servire meglio i propri clienti la tendenza a raffinare la propria segmentazione è legata anche all'aumento della pressione competitiva l'abbiamo visto con i single quindi man mano che i nuovi competitor vengono e dicono ah però questa cosa sta funzionando man mano quindi bisogna raffinare quindi la segmentazione e renderla sempre più diciamo precisa in più direzioni posso lavorare quindi su un allargamento oppure su un approfondimento oggi anche per le nicchie quando si rivelano interessanti aumenta spesso il numero dei concorrenti e quindi la maggiore competizione sul segmento e quindi porta anche ai nuovi entranti come dicevo prima a raffinare quindi la propria diciamo proposizione l'altro problema legato quindi alla segmentazione è che all'interno di un segmento si celano quindi interessi completamente diversi e motivazioni completamente diverse basti pensare quindi al cicloturismo se sapete in quante modalità si può segmentare addirittura c'è quindi il segmento dei ciclisti naturalisti che vogliono dimagrire che sono rappresentati dal blog Fat Cyclist quindi siamo arrivati veramente sul web a delle espressioni proprio di interessi molto molto specifici e allora bisogna cercare anche di capire queste motivazioni fra di loro come si differenziano anche all'interno di quello che è un segmento ecco perché noi lavoriamo molto sulla subsegmentazione quindi all'interno di ogni segmento ci sono tanti subsegmenti pensate per esempio il turismo enogastronomico il turismo enogastronomico ha almeno 12-15 subsegmenti cicloturismo l'abbiamo detto prima pensate quindi adesso vi faccio qualche ulteriore esempio per qualcuno la motivazione è l'amore per la bicicletta quindi abbiamo i road bikers per qualcun altro è l'opportunità di conoscere altre persone quindi ci sono i social bikers poi ci sono quelli gli urban bikers ci sono quelli addirittura che considerano la bicicletta come strumento politico per esempio pensate a critical mass pensate quindi al mountain biking pensate quindi alle differenti quindi di tipologie di bicicletta a scatto fisso elettrica semi assistita eccetera per non entrare pensate quindi al woman biking alle differenti forme di family biking alle preferenze relative all'ospitalità spartana di lusso alle attività svolte successivamente all'attività diciamo di biking che possono essere più culturali più ludiche più sociali alle persone che possono comporre il gruppo che possono essere single gay un gruppo scolastico e quant'altro i dipendenti di un'azienda e quindi in funzione di questo cambia completamente come dire la logica di segmentazione e quindi in un caso posso parlare quindi di team building e quindi da quel punto di vista può essere uno strumento di incentive quindi ma c'è sempre la bicicletta e quindi questo per mettervi in guardia dal rischio delle etichette le etichette sono pericolosissime perché sono rigide e quando invece le esperienze sono fluide quindi costruire delle gabbie non è assolutamente utile ecco qui vedete per esempio un sito italiano che parla di cicloturismo prenota un bike hotel social eccetera a differenza con un tour operator invece internazionale che segmenta per tipologia di holiday per percorso per tipologia di bicicletta cycling holidays mountain bike holidays road cycling eccetera eccetera e all'interno di queste subsegmenta quindi man mano che entriamo e vogliamo affrontare dei mercati complessi evidente che se noi vogliamo attirare il turista inglese a fare dei percorsi diciamo ciclistici in Puglia non possiamo quindi lavorare come dire in maniera così generica come potremmo fare magari con altri pubblici meno sofisticati e quindi oltre alla differenziazione dei temi sui temi mare montagna sport eccetera ci sono quindi nuovi elementi che dobbiamo quindi considerare per definire nuove basi di segmentazione e quindi accanto quindi a questi temi nascono nuovi temi più o meno nuovi recenti il turismo dark il turismo sciamanico il turismo archeologico nelle sue subsegmentazioni il turismo letterario il turismo che segue i luoghi del cinema il turismo che segue i luoghi delle fiction eccetera eccetera quindi ci sono nuovi turismi che possono essere quindi intercettati mentre per quanto riguarda il segment enlargement si tratta di prendere la stessa offerta che noi abbiamo ridefinirla in maniera tale che possa piacere a un pubblico più ampio è il caso per esempio di un tour operator italiano che si chiama giocamondo che è specializzato nelle offerte turistiche di tipo scolastico legate ai bambini e quindi è un turista per esempio dei summer camp che è una forma turistica che per esempio negli Stati Uniti è molto avanzata ebbene al di là del target quali sono le caratteristiche che hanno i bambini secondo voi che caratteristiche hanno i bambini il gioco non è una caratteristica i bambini hanno la caratteristica che devono essere seguiti e che non possono essere lasciati da soli e che quindi devono essere seguiti costantemente e qual è un altro target che deve essere seguito costantemente gli anziani e quindi da questo punto di vista una che ha sviluppato una competenza di seguire i bambini riesce quindi ad allargarlo nel turismo della terza età e quindi questo è un lavoro che per esempio Camonda ha fatto partendo dalla sua vocazione e quindi la sua vocazione non era soltanto il gioco e quest'altro ma la capacità di seguire quindi le specificità di questo pubblico che non puoi come dire lasciarlo perché il bambino dopo 20 minuti si annoia mi annoio e quindi l'anziano invece ha delle altre possibilità e quindi era molto facile passare quindi da questo segmento a un altro allargando quindi l'offerta ma non in maniera come dire tematica ma in maniera di adattamento della mia vocazione molto semplice assolutamente c'è un problema in questo momento perché gioca magari c'è un problema sul nome sul brand quello sicuramente in effetti però supponiamo che si chiami giocamondo perché in effetti è evidente giocamondo lavorate sugli anziani eccetera però puoi ovviare in più modi il primo lavorando sulla rebranding oppure sviluppando quindi linee di offerte faccio un esempio Procter & Gamble che voi conoscete produce voi non la conoscete per Procter & Gamble la conoscete per le linee di prodotto che ha e le linee di prodotto che ha sono talmente diverse in mercati diversi e che quindi hanno costruito dei brand di prodotto quindi da questo punto di vista anche sulla comunicazione tu lavori su segmenti diversi con canali di comunicazione diversi quindi non è un problema in questo caso la sua domanda era molto pertinente perché c'era l'ulteriore problema del giocamondo e quindi eccetera eccetera però se non ci fosse stato questo problema io posso comunque sviluppare diciamo linee per esempio la società in cui lavoro si chiama Crescendo e ha una divisione che si chiama Innovacting specializzata in sviluppo di strategie turistiche però la società Crescendo fa anche acquisizioni e fusioni ma fa anche una società che fa personale ma fa ricerca del personale ma anche altre società quindi da quel punto di vista non è un grosso problema per cui si gestisce il problema poi è naturalmente è un problema successivo di comunicazione va affrontato ma si può gestire io sto parlando invece in questo caso di un problema strategico di allargamento evidentemente io non posso passare dal turismo religioso al turismo gay sono come dire due modalità totalmente in antitesi con sensibilità completamente diverse quindi è difficile che io riesca a capire i due mercati ok allora da quel punto di vista io dico come faccio io partendo da quello che sono la difficoltà quindi a rimodulare l'offerta da bambini e anziani è meno difficile di quello che sembra poi naturalmente bisogna studiare bisogna analizzare e quant'altro e prendere quindi del personale specifico però come dire non è non è non è complesso accanto poi ai segmenti come dire prettamente tradizionali legati quindi ai quindi diciamo ai segmenti ci sono quindi questi nuovi turismi vocazionali che nella letteratura anglosassone qualcuno ha chiamato adjective al turismo perché adjectival perché sono caratterizzati da un aggettivo e lì veramente ce n'è di tutti di più e quindi si sono sviluppate come dire diverse forme e qui c'è un elenco non esaustivo pensate quindi a nuove forme del turismo sociale social tourism voi sapete cos'è social tourism social tourism è una forma diciamo di turismo di persone che vogliono in questo caso non il turismo sociale di tipo tradizionale quello che noi pensiamo il turismo degli anziani eccetera ma la nuova forma di social tourism sono persone che vogliono utilizzare il turismo per conoscere altre persone e quindi il social tourism si è esploso in mille modi per esempio c'è il turismo dello scambio di case quindi pensate tutto l'esplosione del couch surfing eccetera più altro per esempio c'è un altro turismo che si chiama turismo del social dating quindi due persone che viaggiano insieme e non si conoscevano prima eccetera eccetera e quindi ci sono nuovissime diciamo forme legate anche per esempio anche alla mobilità breve pensate quindi alle opportunità che hanno le linee aeree per esempio di mettere insieme due passeggeri che hanno determinate caratteristiche oppure per esempio il trasporto per esempio dico mi piacerebbe tanto che vicino a me si sedesse una bionda e quindi da quel punto di vista sono disposto a pagare di più oppure mi interesserebbe per esempio faccio viaggiare Madonna gratis e poi dico all'altro offro il biglietto seduto vicino a Madonna per 500 euro e quindi si svilupperanno quindi nuove forme diciamo di personalizzazione in cui la fantasia sarà come dire l'unica l'unico limite ci sarà di tutto e di più vedrete attraverso internet già ci sono quindi c'è già il social booking ci sono già società come per esempio che adesso non mi viene il nome di chi lo fa che hanno organizzato per esempio il trasporto collettivo col taxi due persone Virgin Galactic non mi veniva Virgin Galactic che cosa ha fatto? ha detto ci sono due persone che si iscrivono attraverso il nostro sito e devono andare a New York e devono andare più o meno nella stessa direzione si iscrivono poi stampano una sorta di di bigliettino se lo mettono qua con una sorta di bandiera e queste due persone si incontrano all'uscita a una certa ora e quindi prendono lo stesso taxi e condividono i costi quindi attraverso internet ci sono tantissime nuove possibilità quindi vedete quindi tante altre che noi stiamo man mano scoprendo una via quindi di via di mezzo sta nei turisti nei turismi quindi diciamo anche di tipo diciamo trasversale ma non è adesso questo il punto non siamo qua a fare una classificazione dei turismi a noi non interessa per cui le classificazioni abbiamo detto che lasciano un po' il tempo che trovano e poi sono anche molto contestabili sono opinabili già io ho lavorato molto in ambito del turismo responsabile e quindi lì pensate un po' c'era una diatriba il turismo responsabile il turismo green l'ecoturismo eccetera dove inizia uno dove inizia l'altro e quindi con definizioni di come dire persone che che hanno cercato quindi di di delineare quindi diciamo l'ambito molto molto difficile ecco perché io invece lavoro su segmenti di tipo esperienziale non mi interessa se green ma io do una definizione e dico secondo la mia definizione appartengono a questa definizione tutte le persone che ta 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 e poi è una definizione molto operativa tutti quelli che non rientrano in questa in questa segmento non sono quindi oggetto della mia progettazione e sono comunque segmenti dinamici per cui quando parliamo di esperienze sono persone che appartengono in un determinato momento perché dobbiamo quindi bypassare anche questi segmenti rigidi il fatto che io sono andato ai Caraibi l'anno scorso in vento allora poi mi arrivano le email dall'operatore proponendo i viaggi dei Caraibi ragazzi i Caraibi li ho visti quest'anno voglio andare in Nuova Zelanda anche il comportamento passato non è indice di quello che voglio fare nel futuro invece se lavoro sulla motivazione più o meno la motivazione ha una vita un pochino diciamo più lunga rispetto alla segmentazione ecco che quindi i bisogni vanno indagati con grande creatività e con innovazione e quindi ci sono modelli di analisi modelli creativi che servono per identificare quindi la relazione tra motivazioni e segmenti e quindi una volta che io ho identificato i segmenti e poi vi faccio vedere come lo step successivo sta nella valutazione dei segmenti per raggiungere quindi quella massa critica di cui parlavo e quindi la scelta dei segmenti da servire dipende non solo dall'originalità ma dipende da due fattori l'attrattività dei segmenti ovvero la possibilità attuale e futuro di ottenere profitti soddisfacenti attrattività del segmento è quanto quel segmento è per me profittevole e quindi da quel punto di vista per esempio il segmento dei campeggiatori è numeroso però magari non attrattivo per un determinato territorio il secondo elemento invece è la competitività la competitività dipende non dal mercato ma dipende dalla mia situazione rispetto alla concorrenza quindi la competitività dell'organizzazione turistica rispetto a tali segmenti rispetto alla concorrenza e quindi inserendo la matrice di attrattività e competitività io arrivo quindi a selezionare i segmenti su cui io voglio lavorare e dico ancora una cosa poi facciamo la pausa quindi i metodi e le basi di segmentazione oggi disponibili non sono quindi pienamente compatibili con la realtà turistica attuale che è molto diciamo è molto cambiata e quindi dobbiamo tornare alle origini della segmentazione costruendo quindi nuove basi di segmentazione ma il metodo rimane sempre valido che cos'è un segmento riprendo pari pari la definizione di Kotler che non è assolutamente cambiata scusate vado velocemente un segmento di mercato è costituito da un gruppo di clienti che condividono un insieme simile di bisogni e di desideri ok questa definizione quindi è vecchia come diciamo come il marketing la definizione non è non è come dire da rivedere ma sono le basi da rivedere ripartiamo quindi dai bisogni dai desideri e quindi andiamo veloce queste sono alcune basi di segmentazione che non spesso che non sempre ci aiutano variabili geografiche vediamole e quindi non le commento quindi lo vedete variabili psicografiche anche queste non sempre ci aiutano nella progettazione variabili comportamentali un po' di più ok però sono sempre troppo generiche e quindi conserviamo la filosofia e i metodi di segmentazione ma approfondiamo l'indagine l'indagine e la generazione creativa dei bisogni e dei desideri dei turisti quindi dopo la pausa verifichiamo che cos'è un segmento esperienziale esiste una differenza di fondo tra quello che è il segmento tradizionale e il segmento esperienziale la differenza sta non soltanto nelle basi di segmentazione ma anche nella dinamicità il segmento tradizionale è statico e quindi da quel punto di vista prevede quindi persone che facciano una determinata cosa piuttosto che abbiano una determinata motivazione in un tempo diciamo sufficientemente lungo la caratteristica invece del segmento esperienziale che è un segmento dinamico che fa sì che le persone sono inserite all'interno di uno o più segmenti in un determinato momento quindi questo vuol dire che la temporalità è importante e la contestualizzazione è importante questo vuol dire che una persona può appartenere a più segmenti contemporaneamente oppure appartenere a un segmento in un determinato momento e in un momento successivo non appartenere più e quindi possiamo definire la segmentazione in un modo diverso che andremo diciamo a vedere adesso ma prima di fare questo per rivedere il concetto quindi generale di segmentazione noi possiamo fare riferimento a una serie di passi successivi che prevedono attività creative e analitiche che riguardano quindi i seguenti passi come dicevo analisi generale del mercato attuale potenziale presente futuro quindi da questo punto di vista anche il concetto di segmento fa riferimento quindi a concetti diversi di mercato che può essere attuale presente e futuro l'analisi dell'offerta dell'organizzazione turistica e delle sue risorse e confronto con la concorrenza scelta delle variabili di segmentazione che viene anche detta base di segmentazione su questo dovremmo fare quindi un ragionamento determinazione elementi centrali legati alle esperienze scelta dei segmenti di interesse per cui noi avremo quindi un'elencazione di possibili segmenti che dovremmo quindi scegliere per cui avremo identificato magari 60-70 segmenti potenziali e decidere poi di servirne soltanto 4 5 o quello che sarà frutto della diciamo nostra scelta quindi l'output della segmentazione consiste nell'ottenere una o più matrici di segmentazione ossia matrici offerte segmenti offerte mercati barra esperienze mercati che mostrino quindi in chiave sintetica le opzioni di offerta esperienziale per i diversi turisti e quindi da questo punto di vista abbiamo detto che un stesso turista può contemporaneamente fare riferimento a più segmenti esperienziali quindi ciascun incrocio tra offerta specifica e mercato di turisti viene definito segmento in questa accezione evidentemente c'è c'è il doppio discorso legato sia all'offerta in quanto offerta turistica e anche mercato quindi il mercato potrebbe essere il mercato tedesco il mercato giapponese il mercato australiano e quant'altro e quindi da quel punto di vista io faccio esperienza barra mercati barra segmenti quindi lo posso concettualmente dividere in due facendo quindi una matrice dicendo questa è una matrice legata al mercato americano il mercato tedesco e quant'altro e quindi facendo una matrice per mercato oppure facendo una matrice a tre però che diventa concettualmente più difficile da rappresentare e quindi noi ne facciamo una mercato per mercato poi sul discorso dei mercati torneremo perché c'è l'elemento contestualizzazione dal punto di vista culturale che è un discorso da non tenere sottovalutato quindi da questo punto di vista la matrice di segmentazione ha questo tipo di rappresentazione da una parte abbiamo le esperienze dall'altra parte abbiamo quindi i mercati o comunque i segmenti turistici e quindi noi possiamo scegliere e dire benissimo questi sono tutti i mercati che noi possiamo servire e poi in particolare questo segmento che io ho contraddistinto in giallo è quello che mi interessa e quindi questo sarà il segmento centrale che io decido quindi un conto è analizzare il potenziale un conto è scegliere il segmento in base alle strategie di attrattività e competitività di cui abbiamo parlato prima e quindi arriveremo a costruire il mio posizionamento quindi il punto critico della segmentazione specialmente nel caso in cui si voglia innovare completamente diciamo l'offerta e il posizionamento competitivo risiede nella scelta delle variabili di segmentazione lo ripeto quindi non nell'idea sull'idea siamo tutti d'accordo ma è la scelta delle variabili che determinerà quindi la differenza e quindi ritornando all'esempio di prima definire un segmento di giovani tra 18 e 25 anni è forviante anche dire donne 18-25 anni in quanto al suo interno si manifesta una varietà enorme di bisogni quindi più è fatta bene l'analisi delle basi di segmentazione e più preciso sarà quindi la definizione dei segmenti da questo punto di vista noi costruiamo quindi un'analisi utilizzando delle caratteri fizionali che chiamiamo personas come nel design che rappresentano tutti gli elementi di motivazione di attività di contestualizzazione del segmento esperienziale che andiamo poi a analizzare specificamente e quindi la frammentazione dei pubblici è una realtà con cui noi dobbiamo fare i conti e quindi da questo punto di vista il nostro segmento deve essere tanto ampio da tenere in considerazione quindi molteplicità diciamo di aspetti ma tanto preciso in maniera tale da consentirci di di essere diciamo sufficientemente precisi ovviamente si parla sia di mercato attuale sia di mercato potenziale da questo punto di vista quindi andiamo a ragionare anche in chiave non so perché questo continua a andare da solo in chiave diciamo prospettica e quindi siamo interessati maggiormente a un mercato piccolo ma in crescita piuttosto che a un mercato grande ma diciamo in declino da questo punto di vista quindi i mercati sono identificati dalla combinazione delle variabili di segmentazione quindi la combinazione e la sintesi delle basi di segmentazione individuate andrà a comporre i mercati a cui l'organizzazione si rivolge poi vi faccio vedere un bel esempio così questo concetto vi verrà spiegato quindi questi risultati rappresentano quindi le colonne della matrice di segmentazione il processo che porta quindi a ottenere diciamo a ottenere la matrice di segmentazione quindi è un processo iterativo un processo costantemente diciamo in evoluzione e quindi si analizzano i segmenti si indagano in maniera creativa li si ricombinano poi li si riguardano quindi non è mai un concetto diciamo statico si fa un'analisi delle conversazioni in rete si aggiungono elementi si tolgono elementi quindi è un è un processo quindi sempre diciamo in evoluzione dopo aver definito quindi le colonne che sono i mercati e le righe che rappresentano quindi le esperienze turistiche della matrice occorre scegliere quindi quali sono i segmenti che noi vogliamo servire e quelli che vogliamo quindi privilegiare e quindi nella X rappresenta quindi tutti i mercati che quindi rappresentazione quindi offerte barra mercati quindi segmenti che su cui noi diciamo vogliamo noi vogliamo concentrarci quindi non è evidentemente possibile servire tutti i mercati e quindi dobbiamo fare quindi diciamo delle scelte le scelte sono legate a motivazioni di tipo economico attrattività del mercato competitività ma anche a elementi storici per esempio gli inglesi sono sempre venuti i tedeschi sono sempre venuti i francesi invece no e quindi da quel punto di vista ci sono anche dei rapporti diciamo già sviluppati con alcuni mercati o con alcuni segmenti ma anche da scelte legate a valori identitari a cui noi indipendentemente dal mercato quanto piccolo o grande che sia noi non vogliamo rinunciare e quindi da questo punto di vista abbiamo quindi i mercati turistici da una parte dall'altra parte abbiamo i nuovi concept esperienziali che stiamo quindi per progettare sulla base diciamo dei segmenti e quindi abbiamo due valutazioni di cui parlavo prima che nel marketing tradizionale quindi questo non è assolutamente cambiato viene chiamata la fase del targeting e la segmentazione vuol dire l'operazione di definire quindi le spaccature diciamo del mercato in segmenti omogenei la scelta la valutazione di dove agire si chiama targeting ecco perché si parla di target che è anche un termine che nel marketing esperienziale non viene usato però che nel marketing tradizionale si quindi il targeting significa valutazione dei segmenti obiettivo noi li chiamiamo segmenti obiettivo più che bersaglio che sembrano persone a cui vogliamo sparare saranno quindi oggetto di considerazione quindi nel sviluppo diciamo dell'offerta mentre per quanto riguarda invece la decisione su come agire si chiama posizionamento quindi il posizionamento riguarda quindi la decisione di dove andare quali mercati scegliere e con quali diciamo modalità e quindi alla fine come presentarsi nella mente dei consumatori dei viaggiatori dei turisti che abbiamo deciso di servire quindi per effettuare quindi un buon posizionamento è opportuno effettuare un continuo raffronto tra le parti in gioco che costituiscono i cardini della strategia di posizionamento e che quindi abbiamo noi e la nostra offerta quindi parliamo della nostra vocazione i concorrenti e la loro offerta e il turista e le sue percezioni che sono quindi i tre elementi del triangolo che dobbiamo prendere in considerazione per ottenere quindi un posizionamento adeguato e quindi che cosa vuol dire posizionarsi all'interno di un segmento la value proposition dei concorrenti differiscono per alcuni tratti significativi agli occhi dei clienti e quindi definiti decisi segmenti su cui vogliamo competere l'impresa territorio dovrà decidere il suo posizionamento competitivo nei confronti di altre offerte che stanno competendo sugli stessi segmenti di offerta ci siamo e quindi da questo punto di vista il posizionamento è il modo originale con cui noi ci differenziamo dai nostri competitor e quindi per fare questo dobbiamo individuare quali attributi il turista considera significativi rapportare ad essi il prodotto o servizio offerto quindi declinare la nostra offerta per lo specifico segmento eseguire la stessa operazione con i prodotti servizi della concorrenza costruire quindi una mappa di posizionamento vedendo quali sono quindi anche gli spazi dove abbiamo più opportunità o dove non ci sono concorrenti e dove c'è quello che viene definito l'oceano blu e quindi aiutarsi tracciando la mappa delle percezioni cosa su cui adesso non sto entrando perché è uno strumento operativo e quindi non vorrei entrare nel dettaglio su questo tipo di operazione e quindi fondamentalmente ci sono tre grandi tipologie di posizionamento poi evidentemente ce ne sono anche di più di queste però le possiamo raggruppare in tre ambiti in tre tipologie scusatemi continuo ad andarmi indietro allora il posizionamento può essere unico in maniera tale che io possa presentare un'offerta che sia realmente unica nel mondo bene non tutti possono avere un posizionamento unico per esempio i sassi di Matera sono qualcosa di unico al mondo l'offerta diciamo di Venezia è unica al mondo altre invece offerte sono quindi non uniche ma sono quindi distintive e quindi l'offerta è unica quando è veramente differente da tutto il mondo ok Gerusalemme è un'offerta diciamo unica unica al mondo l'offerta di New York è una città diciamo unica invece altre città degli Stati Uniti non sono uniche per cui sono quindi distintive ma non uniche e quindi unicità si ha quando abbiamo degli elementi veramente diversi da tutti gli altri componenti e che hanno delle caratteristiche distintive non reperibili nella concorrenza e quindi sono veramente pochissime le offerte veramente veramente uniche le piramidi quelle d'Egitto sono uniche però magari non sono uniche se consideriamo anche altre piramidi legate quindi alla diciamo Sud America però in quanto diciamo offerta è un'offerta diciamo unica abbiamo poi la distinzione ovvero dove io ho un'offerta turistica meglio del competitor la faccio però sono il migliore e quindi da questo punto di vista posso ottenere un premium price meglio perché costruisco un'esperienza molto più precisa più rilevante più distintiva e poi abbiamo la similarità ho un'offerta che è simile ma per esempio ha un prezzo più basso e quindi molta competizione lavora quindi da questo punto di vista vi farò vedere diciamo degli esempi in tal senso per esempio c'è tutto il turismo medico dove ci sono alcune specializzazioni l'India si è specializzata nei trappianti di cuore il Marocco con la Casablanca per esempio si è specializzata nei trappianti di sesso nel cambio di sesso e quindi nelle operazioni diciamo di questo tipo altri paesi invece si sono specializzata per esempio sullo recovery e quindi sulla post operazione eccetera eccetera quindi stavo dicendo scopo del processo di posizionamento quindi è quello di creare differenziazione fra la nostra organizzazione destinazione e i concorrenti in particolare per quanto riguarda la nostra value proposition mentre sempre il Kotler ha definito come differenziazione la definizione di un insieme di differenze significative in grado di rendere distinguibile per l'acquirente l'offerta dell'impresa rispetto a quella dei concorrenti e quindi diciamo che questi concetti del marketing tradizionali sono mantenuti concetti di segmentazione concetti di posizionamento concetti quindi di differenziazione questi non sono cambiati ma l'obiettivo della differenziazione è la maggiore soddisfazione del turista la minore sostituibilità la minore sensibilità al prezzo e la minore elasticità della domanda e quindi ovviamente la conseguenza è quindi l'ottenimento quindi di un posizionamento che sia diciamo difendibile ma non basta definire il posizionamento questo posizionamento deve essere definito e verificato col mercato le scelte strategiche devono essere verificate con opportune analisi e se queste analisi non riconoscono il nostro posizionamento occorre verificare quali sono i punti di debolezza per operare per la loro diciamo revisione e quindi il posizionamento deve essere qualcosa che viene costantemente quindi verificato con l'evoluzione quindi dei mercati e quindi se il posizionamento non corrisponde più all'evoluzione del mercato si parla di strategie di riposizionamento e quindi vuol dire una modifica del mio posizionamento scusate che continua ad andare per conto suo e quindi una modifica e quindi questo posizionamento può essere quindi radicale nel caso in cui veramente capita abbastanza raramente in cui l'offerta sia totalmente obsoleta oppure può essere quindi un posizionamento che ha elementi di continuità ma che ha fondamentalmente quindi un rinnovamento un raffrescamento eccetera quindi arriviamo quindi alla definizione del segmento esperienziale il segmento esperienziale è un elemento di discontinuità rispetto al marketing tradizionale parliamo di segmento non parliamo di target però c'è una differenza vediamo quindi quali sono gli elementi differenziali rispetto al concetto di segmento diciamo tradizionale un segmento esperienziale viene definito come un gruppo di persone che in un determinato momento e non è necessario che questa cosa poi avvenga in un momento successivo quindi può essere dinamico nel tempo mostrano una o più caratteristiche uno persone che mostrano bisogni o desideri simili ok e quindi bisogni simili sono per esempio vogliono andare in bicicletta ma perché vogliono avere un contatto con la natura quindi non basta l'attività l'attività deve essere legata alla motivazione perché altrimenti abbiamo quindi persone che fanno la stessa attività ma che appartengono a segmenti diversi e il cicloturismo lo distingue tanto è vero che noi possiamo quindi avere persone che fanno la stessa attività e questa attività può essere inserita in segmenti diversi quindi uno come abbiamo visto può per esempio considerare un corso di cucina nel turismo creativo e nel turismo quindi no gastronomico quindi da quel punto di vista quello che cambia è il livello delle motivazioni perché ci sono motivazioni principali secondarie e terziarie e quindi da quel punto di vista la combinazione di queste motivazioni determina quindi l'afferenza possiamo dire così rispetto a un segmento rispetto a un altro due svolgono quindi attività simili ma con motivazioni simili sono attratte quindi tre dalla stessa tipologia di offerta non basta che svolgano attività simili ma se svolgono attività simili e sono attratte da offerte diverse vuol dire che c'è di base una motivazione che non è in comune e che in quarto elemento è che è un elemento che è fortemente caratteristico delle scelte dei consumatori attraverso internet fanno parte per esempio di una comunità o si identificano gli elementi della subcultura e fanno parte per esempio di una comunità verticale o una comunità di valore condividono certe idee credenze per le quali si intende progettare un'offerta turistica per esempio tutte le persone che fanno parte del turismo responsabile o piuttosto che amano il turismo lento piuttosto che il turismo a piedi piuttosto che hanno quindi delle idee specifiche di come deve essere quindi la loro cultura del viaggio e quindi in base a questo vi faccio vedere che superiamo per esempio i concetti di segmentazione troppo rigida e quindi etichette come turismo green turismo responsabile eccetera eccetera spesso sono troppo ampie e nascondono quindi sottosegmenti come dire diversi prendiamo per esempio la combinazione di elementi esperienziali diversi che creano un segmento esiste un segmento del diciamo turismo responsabile un sottosegmento che si chiama turismo volunteering ok che cos'è un turismo volunteering è un turismo che mette insieme due elementi l'ecoturismo la conservazione dell'ambiente e la volontà di utilizzare il viaggio per fare una scelta responsabile e attiva quindi vado ad aiutare e quindi all'interno del volunteering ci sono tante possibilità c'è quindi il volunteering della natura c'è il volunteering della popolazione tanto è vero che ci sono medici che per esempio in vacanza vanno a aiutare per esempio altre popolazioni come viaggio come dire nel tempo libero e quindi da quel punto di vista vedete che sono sempre attività di volunteering ma totalmente diverse dal punto di vista diciamo della motivazione e delle attività e quindi quando io prendo un volunteering green con la conservazione dell'ambiente ho un segmento molto specifico quindi vedete che il termine volunteering ha 4, 5, 6 connotazioni completamente diverse e quindi sul mercato non pensate ci sono operatori che fanno esattamente quel tipo di offerta eccola qua e quindi quello che a voi sembra magari una disquisizione del tipo teorica e del tutto come dire astratta trova invece corrispondenza a offerte specifiche per quel segmento e quindi il responsible travel ha quindi un sottosegmento di offerta turistica di volunteering legata all'ambiente che ha conservazione delle specie nel Galapagos wildlife conservation in South Africa Malawi e quant'altro e quindi la cosa diciamo molto interessante è che i mercati si stanno ipersegmentando sempre di più sempre di più e man mano le offerte internazionali stanno diventando sempre più precise e quindi i diversi segmenti poi nuovi o vecchi quindi evolvono i segmenti del turismo letterario eccetera eccetera piuttosto che il turismo diciamo cinematografico che poi addirittura si subsegmenta per genere e quant'altro pensate per esempio che la Corea ha fatto quindi un prodotto per il sottosegmento del turismo cinematografico delle serie noir della Corea ed esiste quindi il sottosegmento e c'è l'offerta quindi a livello diciamo di sofisticazione e il problema sta nel fatto di decidere quanto vogliamo essere quindi competitivi e fino a che punto e quindi il livello di profondità possiamo arrivare fino all'infinito ma sta a noi scegliere quindi dove fermarci e ci fermiamo in base a due elementi questo l'abbiamo visto la domanda e la pressione competitiva quindi da quel punto di vista se la domanda non è matura e se la pressione competitiva è bassa è inutile subsegmentare non ha senso e quindi sono sufficienti quindi segmenti diciamo di ampia portata quindi la subsegmentazione è una scelta che si fa soltanto quando abbiamo quindi una pressione competitiva perché subsegmentare vuol dire rinunciare a un mercato più ampio quindi da quel punto di vista si fa quando è necessario quindi sulla segmentazione c'è molto lavoro da fare e la segmentazione si fa attraverso processi di analisi creativa e di analisi per esempio utilizzando per esempio la netnografia digitale noi attraverso quindi l'analisi delle comunità in rete troviamo ogni giorno nuovi segmenti che possiamo quindi decidere di servire una volta che abbiamo definito i segmenti dobbiamo cominciare a costruire l'esperienza per questi segmenti e arriviamo quindi alla terza fase della metodologia sì sì diciamo che la netnografia digitale che per esempio è uno strumento poi ci sono anche strumenti diciamo di analisi creativa e quant'altro è già una disciplina che nasce diciamo dall'antropologia e che nasce quindi dall'etnografia e che parte dall'analisi dei comportamenti delle persone in rete per poter identificare nuovi segmenti l'etnografia è ormai una disciplina come dire studiata consolidata ci sono già testi di riferimento giusto per fare un esempio Cosinet è uno degli esponenti che ha già scritto diciamo articoli libri legati diciamo al tema quindi come dire ci sono già quindi è una pratica soltanto che il problema dell'etnografia è che non esiste un metodo consolidato ci sono quindi 20 30 40 tipologie in funzione del tipo di problema di analisi diciamo di etnografia digitale quindi non esiste quindi uno standard diciamo condiviso dipende dagli obiettivi perché poi l'etnografia può essere partecipata non partecipata e quant'altro però non vorrei adesso entrare diciamo sulla technicality però lo strumento c'è poi però va acquisito e poi personalizzato in funzione dei propri obiettivi non è una disciplina come dire così consolidata perché ha pochi anni di vita e quindi non è come il marketing di cui noi abbiamo almeno 50 anni adesso noi i fondamenti del marketing li continuiamo a utilizzare abbiamo rivisto soltanto i concetti che non sono più attuali però abbiamo visto posizionamento differenziazione segmenti sono concetti che continuiamo a usare quindi cosa sono le strategie esperienziali le strategie esperienziali sono le modalità con cui si vuole giungere un obiettivo definito di esperienza che sia soddisfacente e memorabile per un segmento specifico dei turisti e quindi questo è importante perché quello che è di interesse per un segmento non è di interesse per gli altri e quindi quello che è di interesse non è soltanto l'offerta ma la chiave di lettura con cui viene proposta lo storytelling la narrazione tutto e quindi l'insieme di questo costruisce quindi l'elemento centrale della strategia esperienziale che è quindi il concept possiamo quindi vedere che le strategie devono essere devono produrre quindi un'esperienza soddisfacente e memorabile abbiamo visto ieri che i due elementi non sono quindi la stessa cosa e che quindi ci vuole un bilanciamento tra diciamo questi due obiettivi se l'esperienza è solo soddisfacente ma non è memorabile è un problema se è memorabile ma non è soddisfacente anche se evidentemente è un problema quindi quali sono i criteri di base per definire le strategie esperienziali le strategie esperienziali devono essere definite in maniera precisa e hanno quindi dei requisiti particolari le esperienze devono essere definite per sottosegmenti specifici perché l'abbiamo detto perché la rilevanza è un elemento centrale e se l'esperienza non è per me rilevante diventa un'esperienza generica e quindi l'esperienza generica è una commodity il secondo elemento è che le esperienze devono essere originali e quindi per massimizzare l'impatto che avranno sui turisti e quindi l'imitazione è poco premiante perché se l'esperienza è uguale o simile a quella di tutti gli altri a questo punto di vista ho difficoltà quindi a differenziare la mia proposizione ecco che gli strumenti di innovazione che abbiamo cominciato a vedere ieri possono essere usati per determinare il livello necessario di innovazione che può essere quindi non necessariamente quindi radicale e che deve essere quindi questi strumenti devono essere affiancati a strumenti di creatività in questo momento noi conosciamo abbiamo censito 150 strumenti di creatività ne usiamo più o meno 50 50 modelli di diciamo di creatività non ho tempo di farvene vedere ma ce ne sono tanti alcuni di questi per esempio permettono di prendere un'offerta di un competitor e modificarla completamente in maniera tale da trasformarla quindi se ho tempo magari domani vi parlo di uno dei modelli di creatività e sono modelli che si insegnano quindi sono tecniche molto molto semplicemente non richiedono quindi il diciamo il genio sono tecniche che si imparano si raffinano e poi man mano che tu diventi esperto come dire le utilizzi sempre con maggiore facilità le esperienze devono massimilizzare gli aspetti positivi ma anche minimizzare gli aspetti negativi e quindi l'esperienza deve fare i conti con le nostre limitazioni e quindi se noi abbiamo delle limitazioni ci dobbiamo lavorare faccio un esempio la Basilicata e come dire e la Puglia hanno un problema che è quello dei trasporti che è un grosso problema e quindi da quel punto di vista io ci devo convivere io ho due possibilità o miglioro i trasporti costruendo una rete alternativa di trasporti magari organizzandomi privatamente oppure devo fare quindi devo lavorare su una narrazione che sia diciamo come dire differente e quindi un pochino se vogliamo la Basilicata ci ha lavorato perché c'era Francis Ford Coppola che è stato un grande endorser della diciamo della Basilicata se non sbaglio mi pare che lui abbia origini della Basilicata com'è? ecco e lui parlò della Basilicata come un luogo ancora magico perché è difficile da raggiungere e quindi il fatto che è difficile da raggiungere vuol dire che non è contaminato e quindi da quel punto di vista a volte come dire l'elemento negativo ci si può lavorare io non dimenticherò mai quando ero studente l'esempio che mi fu spiegato straordinario che fece per esempio il tonno Rio Mare voi sapete che il tonno migliore è il tonno compatto non il tonno che si spezza è il tonno quindi diciamo di ottima qualità Rio Mare ha ribaltato i termini della questione lavorando quindi sulle aspettative ha detto tonno Rio Mare così morbido che si spezza con un gressino e ha quindi ribaltato l'esperienza tanto è vero che tutti quelli che avevano il tonno duro diciamo compatto e quant'altro veniva nella mente del consumatore assimilato a un tonno di seconda qualità perché era duro e quindi da questo punto di vista questa cosa ci fa dire che quando parliamo di esperienze non parliamo di valutazione oggettiva o organolettica quindi non è un problema degli esperti che ti dicono questo vino è migliore perché no questo vino è migliore perché è leggero perché è più facile da bere e quindi questo ha consentito per esempio il posizionamento di una marca come Yellowtail che vende un vino di consumo di prezzo abbastanza basso come bevanda di consumo per i giovani che si vergognano di andare magari in un negozio e dire voglio un vino ma come eccetera e che non hanno magari la competenza per assaporare un vino più strutturato e quindi è un vino easy un vino basic un vino facile da bere e quindi la abilità di questa azienda australiana non è stata quella di produrre un vino migliore ma è stata quella di offrire un posizionamento differente che non c'era e quindi si è posizionamento come quelli che hanno venduto come dire sul mercato delle acque minerali come bevande come dire dietetiche piuttosto che l'hanno posizionata in maniera diciamo originale quindi è più pratico basare l'esperienza sulla propria vocazione ed offerta ma è consigliabile identificare elementi di attrattività non comuni e difficilmente quindi replicabili l'esperienza dato che ha un significato per diversi segmenti deve essere contestualizzata e comunicata in modo specifico questo attraverso strategie di storytelling quindi l'esperienza non è quello che tu offri ma è quello che offri nella modalità con cui tu la racconti ok e quindi vi faccio un esempio se io prendo una persona di voi e la metto quindi in un gulag sovietico questa persona quindi sarà abbastanza diciamo sconvolta se io vendo questo come due giorni di turismo estremo e quindi ho sul mercato una serie di persone che apprezzano questa possibilità sapendo che dopo due giorni escono e quindi vogliono provare il brivido di dormire due giorni in un diciamo in un gulag sovietico e quindi da quel punto di vista nell'esperienza una componente fondamentale è la narrazione perché come vedremo successivamente la narrazione è quella che crea quindi la contestualizzazione i significati eccetera e quindi dobbiamo nella progettazione dell'esperienza definire quindi gli obiettivi le strategie e le metriche di misurazione e quindi gli obiettivi dell'esperienza e lì è una cosa più semplice in funzione dell'analisi che avremmo fatto sui diversi pubblici le componenti della strategia dell'esperienza e le metriche che misurano quando un'esperienza di soddisfazione e quando non lo è e quindi questo è l'elemento forse più critico e più difficile quindi trovare quindi diciamo dei parametri se io faccio un corso di cucina non è che posso dire dimmi quanto hai imparato e quindi devo definire delle metriche invece differenti per capire il livello di soddisfazione di quel tipo di esperienza ma su quello noi dovremmo quindi tornare all'interno del mio concept esperienziale avrò identificato gli elementi wow che sono quelli che provocano stupore entusiasmo e meraviglia questi elementi wow sono sia elementi di offerta ma anche elementi di narrazione come vedremo anche domani e quindi fondamentalmente raccontando la stessa cosa e questo ve lo faccio vedere in maniera molto concreta la stessa cosa con parole diverse pongo l'attenzione su alcuni elementi piuttosto che altri creando più o meno un'esperienza diciamo di soddisfazione in funzione delle attese che io ho saputo creare e quindi della rispondenza quindi diciamo queste attese lo storytelling sarà importante anche per le strategie di rinforzo della memorabilità dell'esperienza e quindi lo storytelling è importante perché di solito quando uno fa una vacanza o un'esperienza non si ricorda dell'esperienza ma si ricorda di alcuni piccoli dettagli mi ricordo che c'era quella signora che cucinava che aveva il grembiule rosso cioè a volte sono cose strane che una persona si porta dietro oppure c'era quel ristoratore così simpatico che si chiama Giuseppe eccetera che mi ha raccontato questa cosa eccetera eccetera quindi gli elementi narrativi non vanno assolutamente quindi sottovalutati sono un elemento diciamo di progettazione estremamente quindi importante per definire le strategie esperienziali legate all'offerta quindi di un'organizzazione turistica prima di fare questo evidentemente devo circoscriverla analizzando quindi le condizioni al contorno sono delle condizioni che definiscono la posizione dell'organizzazione all'interno dello spazio competitivo se io prima avevo fatto un'analisi anche dei competitor semplicemente per il posizionamento adesso devo fare una serie diciamo di analisi per definire gli elementi distintivi della mia strategia esperienziale rispetto quindi ai miei competitor che ho già quindi definito e quindi in funzione di questo io definisco quindi alcuni item di analisi al contorno dell'esperienza che sono i seguenti scusate andato troppo avanti l'offerta attuale l'offerta dei concorrenti i target attuali i target potenziali le tendenze del settore e i trend di mercato tendenze di settore sono molto importanti perché ci sono quindi come dire alcune tendenze che man mano si stanno consolidando per esempio c'è una tendenza legata quindi alla gamification c'è un'altra tendenza legata quindi all'uso di tecnologia mobile eccetera eccetera però ci sono anche tendenze contrastanti ci sono quelli per esempio che in controtendenza stanno cercando luoghi dove addirittura non c'è wifi perché vogliono disintossicarsi e quindi da quel punto di vista in funzione delle tendenze poi nascono anche le controtendenze quindi le tendenze non sono mai univoche e quindi ci sono tutta una serie di persone che si polarizzano attorno quindi a questi trend in maniera quindi positiva o negativa e poi ci sono quindi trend del settore il settore sta andando verso la responsabilità e sta andando quindi verso determinate scelte quindi la responsabilità implica per esempio alcune scelte legate quindi all'utilizzo dei materiali al riciclo alla raccolta differenziata eccetera eccetera che man mano si stanno diffondendo come dire non solo nel turismo ma si stanno diffondendo quindi a livello globale e di tutte queste cose noi dobbiamo quindi analizzarle nel nostro diciamo progetto l'offerta attuale quindi cosa offre l'organizzazione non soltanto gli aspetti ovvi e immediati ma anche spingendo l'analisi su quegli elementi insoliti che finora non abbiamo raccontato ma che potrebbero rappresentare una fonte di vantaggio futura lo vedremo successivamente ma faccio riferimento quindi a elementi di analisi che abbiamo fatto nella prima fase della metodologia l'offerta naturalmente dei concorrenti allora naturalmente bisogna capire quali concorrenti sono i miei di riferimento faccio un esempio da questo punto di vista per esempio si parla di alberghi per esempio nel luxury e quindi anche la definizione di luxury è importante perché ci sono quindi alberghi di lusso che hanno diciamo delle connotazioni completamente diverse c'è un lusso ostentato c'è un lusso legato al servizio c'è un lusso legato quindi all'understatement e quindi c'è un lusso legato quindi alla possibilità di avere dei servizi esclusivi e quindi quello che è la connotazione di lusso non è qualcosa di standard e quindi da quel punto di vista ci sono magari due alberghi a lecce che sono entrambi di lusso che sono totalmente diversi fra di loro e che quindi attirano e che attirano quindi della concorrenza della scuola dei turisti diversi e quindi io devo dal punto di vista dei parametri internazionali capire ok io ho un albergo di lusso a lecce ma qual è il mio lusso è un lusso tipo il Plaza Atene o di Parigi o è un lusso tipo il Mandarin o è un lusso tipo un lusso grunge tipo il Raff Hotel e quindi anche questi concetti non sono banali quindi non c'è più quindi un'unica concezione legata al lusso quindi la concorrenza è qualcosa di come dire estremamente diciamo delicata da analizzare per quanto riguarda i segmenti che possono essere quindi attuali e potenziali abbiamo quindi turisti attualmente serviti valutandone quindi le caratteristiche sia quantità sia quantità che le associative i loro bisogni le aspettative e gli elementi diciamo importanti quelli che poi nel marketing tradizionale viene chiamato ancora oggi fattori critici di successo e naturalmente il livello di aspettative di soddisfazione poi ci sono i mercati potenziali che sono quei turisti che potrebbero essere interessati all'offerta se solo noi la declinassimo in altri termini quindi l'offerta in questo momento non va bene così com'è non sono i nostri clienti semplicemente perché noi non abbiamo come dire declinato l'offerta in maniera tale che sia per loro quindi interessante allora si tratta di fare in questo caso un lavoro di segment enlargement come l'abbiamo visto l'abbiamo visto prima poi naturalmente ci sono i trend del settore i trend del mercato di cui diciamo abbiamo parlato tutte queste cose ci spingono a definire le modalità di innovazione che abbiamo visto ieri che riguardano quindi scusate ok le modalità strategiche di innovazione che quindi ci dicono ma perché che ci dicono quanto noi dobbiamo innovare qual è il livello di innovazione questo l'abbiamo visto molto bene ieri quindi se è un'innovazione più spinta oppure un'innovazione diciamo più diciamo adattiva questo non non lo ridico perché l'abbiamo visto molto bene molto bene ieri e queste tutte queste condizioni al contorno vanno definite prima di iniziare a ragionare sul costante esperienziale perché definiscono il campo di azione ok delimitano il campo d'azione l'altro elemento non l'ho detto qua però come dire voi lo sapete meglio di me qual è un altro elemento che definisce il campo d'azione eh lo faccio con un gesto esattamente e quindi a quel punto di vista quindi in funzione del budget è in mio possesso quindi come dire definirà moltissimo quindi il mio campo d'azione quindi se mi danno 10 euro probabilmente cambierò come dire la grafica magari dei biglietti da visita perché spenderò magari quei 10 euro di più di grafico punto se invece il budget è più ricco quindi evidentemente potrò fare più cose quindi dobbiamo definire le modalità di innovazione l'abbiamo visto ieri però l'abbiamo visto ieri in ordine sparso ieri e oggi e adesso lo vediamo sistematicamente definiamo il livello di differenziazione vi ricordate l'abbiamo visto ieri differenziazione rispetto ai competitor il livello di innovatività vi ricordate l'abbiamo visto ieri quanto devo essere innovativo rispetto al mio mercato di riferimento lavoro con i russi a quel punto di vista la loro offerta è come dire non è così sofisticata quindi va bene è un'offerta luxury però molto rough molto come dire shopping piuttosto che un lusso ostentato eccetera eccetera adesso io scusate mi generalizzo poi non è vero poi mi stanno riprendendo mi sentiranno e qualcuno sicuramente mi contesta e ha ragione per cui sono costretto quindi a un po' di come dire semplificare quindi mercato canadese mercato poi c'è di tutto mercato canadese un po' più sofisticato e quant'altro eccetera mercato nordico più attento a certe cose piuttosto che altre quindi scusatemi la banalità è una semplificazione e quindi mi rendo conto che è contestabile però è solo a titolo di semplificazione la definizione del mercato l'abbiamo visto prima quindi qual è il mio mercato e quindi qual è la circoscrizione del mercato la definizione del livello di collaborazione e quindi da questo punto vista passare dall'offerta individuale all'aggregazione alla costruzione di almeno reti di impresa per evitare quindi di compare da soli fino ad arrivare ai ecosistemi e definire finalmente i driver d'offerta sulla base di questo andremo quindi a evidenziare quindi gli elementi per poter costruire il concept quindi sul livello di differenzazione l'abbiamo visto prima l'offerta può essere unica distintiva oppure standard l'offerta unica indica la scelta dell'organizzazione di sviluppare un'offerta che non abbia paragoni al mondo l'abbiamo visto prima stand hotel l'ice hotel l'hotel subacqueo quello che abbiamo visto nelle Maldive unica al mondo oppure molto il revolving hotel del Guggenheim ok e scusate abbiamo dalla parte estrema l'offerta standard che indica l'uniformarsi ai luoghi comuni del settore e quindi in cui abbiamo un'offerta generica però in cui l'elemento evidentemente che emerge di più è il prezzo e poi c'è un quindi vedete che gran parte dell'offerta che trovate quindi su internet e poi invece abbiamo posizioni intermedie che vanno verso un'offerta che sia distintiva ok un'offerta che si differenzi dall'offerta della concorrenza in uno più aspetti in maniera più o meno marcata e quindi da questo punto di vista io per esempio non offro per esempio l'offerta croceristica ma per esempio faccio riferimento quindi a un'offerta legata quindi alle toll ships piuttosto che a velieri piuttosto che a offerte specifiche in cui io costruisco poi anche delle sotto offerte anche tematiche il party la celebrazione e quant'altro che ha tutta una connotazione diciamo di esperienza e quindi abbiamo detto ieri che la definizione del livello di innovatività riguarda quindi originalità dell'innovazione e grado dell'innovazione non lo ripeto perché ieri l'abbiamo visto molto bene e quindi sulla base diciamo di questo io deciderò quanto spingermi in termini di concept e quanto investire su un concept che sia più o meno come dire innovativo vediamo che ci sono per esempio anche diciamo dei concept legati a non posizionamento assoluto per esempio prendiamo l'offerta sempre di turismo medico anche negli Stati Uniti ci sono delle cliniche molto specializzate che offrono quindi dei trattamenti per rifarsi il seno rifarsi il viso rifarsi le bagni eccetera eccetera dove tu fai la vacanza torni a casa non soltanto abbranzata ma con un corpo nuovo di zecca per facendo quindi schiattare tutte le amiche quindi questo è un posizionamento dove ci sono alcune cliniche che dicono noi siamo leader in assoluto di questo tipo di offerte ormai turismo medicale è diventato una parte di offerta turistica per cui l'idea è di fare di mettere insieme l'operazione diciamo medicale con quella turistica come esiste il turismo dentale tipo paesi dell'Europa diciamo centrale che fanno turismo dentale per cui ti dicono viene a fare il weekend porta anche la fidanzata con quello che ti costa a Lecce farti i denti noi ti offriamo anche il giro turistico eccetera eccetera in più la cena in più questo tanto è vero che alcune cliniche dentistiche sono diventate tour operator a tutti gli effetti volenti o non volenti però l'hanno fatto per attirare alla fine a loro interesse quindi vendere o turazioni o impianti eccetera e quindi il Brasile per esempio sa che non è ipercompetitivo sul turismo surgery però è che è una cosa che gli interessa allora loro cosa dicono affordable plastic surgery at a fraction of dollar e quindi praticamente che cosa fanno fanno il turismo estetico low cost e quindi hanno trasformato questa cosa qua in un posizionamento che prende una fascia di mercato che vuole questo tipo di come dire di trattamento operazione chiamiamola come volete però che ha un budget limitato e quindi da quel punto di vista ha costruito quindi un posizionamento molto molto specifico e quindi nella definizione quindi dell'approccio al mercato evidentemente noi stiamo lavorando a partire di solito da un'offerta esistente abbiamo visto che sono rari i casi in cui tu non hai niente e quindi da quel punto di vista noi stiamo quindi lavorando sul discorso di approfondimento quindi segment enrichment segment enlargement o segment enlargement enrichment e quindi in funzione di questo noi definiamo il nostro concept esperienziale in profondità o in allargamento e quindi in funzione di questo quindi decidiamo gli elementi che lo andranno quindi a caratterizzare poi naturalmente dobbiamo lavorare sul livello di collaborazione e quindi nel modello di collaborazione abbiamo il primo rapporto cliente-fornitore pensate per esempio a un hotel eccellente o a una offerta attrattiva eccellente talmente forte da portare le persone sulla destinazione è il caso tipico del Guggenheim di Bilbao le persone molto spesso oggi non vanno a Bilbao perché gli interessa Bilbao perché ci sono tante altre destinazioni probabilmente che sono più attrattive però è la capacità del Guggenheim di portare quindi turisti e quindi in questo caso la forza attrattiva del Guggenheim è superiore a quella della destinazione e quindi il Guggenheim diventa un fattore attrattivo eccetera questo può capitare anche su certi alberghi molto specifici dove la gente vuole andare non so mi viene in mente il Cavalino Bianco di Ortisei l'Hotel Ledune della Sardegna o quant'altro che hanno il four season com'è? ce ne sono quindi tanti dove tu scegli proprio l'esperienza specifica dell'operatore però questo rappresenta un investimento enorme dal punto di vista dell'operatore poi abbiamo invece le reti d'impresa che mettono insieme operatori per cercare di conquistare segmenti omogenei possiamo partire dal club di prodotto per poter arrivare a costruzioni di offerte più sofisticate fino a arrivare all'ecosistema turistico e quindi la rete d'impresa è qualcosa di estremamente importante è nata prima una legge poi questa legge è cambiata adesso ci sono tanti bandi che stanno lavorando per favorire l'aggregazione di operatori qual è il grosso problema? che questi bandi spesso non sono progettati bene per cui cosa fanno? ti dicono fate la rete e noi vi favoriamo e molto spesso gli operatori si mettono insieme e prendono il bottino poi scappano e quindi una volta che loro hanno preso questi fondi poi molto spesso questi progetti non partano ecco perché è molto importante che queste reti partano già con un obiettivo strategico perché altrimenti io adesso non ho i dati ma so che molte reti italiane non sono partite molte reti non sono neanche ufficialmente attive e quindi questo per effetto di una mancanza di strategia io ho incontrato tanti direttori di reti che mi hanno detto noi non siamo ancora partiti ma qual è il vostro mercato non lo sappiamo ci siamo appena costituiti ma la strategia quella lì la faremo dopo ma come la faremo dopo io se fossi stato una persona del territorio ti dico no prima mi dici che cosa vuoi fare poi ti do i fondi non ti do i fondi così come dicono a Firenze a babbo morto tanto è vero che adesso molte destinazioni stanno riorientando i bandi e quindi i bandi di ultima generazione sono dedicati a reti di impresa ma a reti di impresa che hanno un obiettivo specifico e poi che prevedono anche un coinvestimento da parte degli imprenditori gli imprenditori devono quindi anche mettere del proprio e quindi devono investire diciamo del proprio e quindi a questo punto di vista quindi molti bandi si stanno orientando diciamo in questa direzione sempre preleggiando fortemente quindi l'aggregazione e quindi anche per esempio momenti come questi che sono momenti di come dire di formazione che io ho già vissuto anche in altre regioni sono anche un come si dice un elemento di come dire diciamo di aggregazione quindi una prima cosa che io per esempio vi dico è vi siete scambiati i biglietti da visita? Vi conoscete fra di voi? Fatelo quindi io domani non vengo se non vi siete scambiati il biglietto da visita quindi conoscetevi eh fate amicizia lavorate insieme e da lì che partono le reti d'impresa eh da momenti come questo cioè non è che una regione si metta a fare progetti di formazione solo solo per fare formazione permanente che è un elemento fondamentale importantissimo ma è un elemento anche per farvi conoscere e quindi presentatevi magari scoprirete che ci sono elementi in comune questo è un po' immagino lo scopo non dichiarato di un progetto come questo eh così ho fatto un po' di ho messo un po' le mani avanti magari per le prossime cose che voi riuscirete quindi a fare quindi che cosa sono le reti d'impresa? Rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese particolarmente destinate alle piccole e medie imprese che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto e quindi le reti d'impresa sono un strumento flessibile che garantiscano il mantenimento della propria identità se sì o sono un ristoratore continuo a fare ristoratore se sono quindi un trasportatore continuo a fare il trasportatore non entro in una società è semplicemente un meccanismo diciamo di collaborazione che è estremamente quindi interessante estremamente utile la legge tra l'altro è cambiata aveva alcune lacune quindi l'ultima versione sicuramente offre degli strumenti importanti rete d'impresa dal punto di vista concettuale che poi alla fine sia una rete d'impresa con lo strumento legislativo della rete d'impresa o che sia un consorzio poco ci importa poi questa è soltanto una scatola giuridica non entro da quel punto di vista quello che a me interessa è il fatto del raggruppamento nessuno di voi ce la può fare da solo quindi questo è poco ma sicuro quindi mettetevi l'animo in pace non mi raccontate le solite storie eba da noi non si collabora perché questo l'ho sentito in cento territori dappertutto mi dicono da noi non si collabora quindi in Toscana abbiamo la prima cosa che ci hanno detto da noi non si collabora li abbiamo messi in una stanza abbiamo chiuso la stanza chiave abbiamo fatto degli incontri periodici è nato Super Tour Operator che in questo momento sta vendendo in Cina in America e quant'altro che è un soggetto più grosso che può competere al pari di Tour Operator diciamo di più grande dimensione quindi bisogna raggiungere una certa dimensione per poter garantire un'esperienza al di sotto di una certa dimensione non puoi garantire un'esperienza un po' come mio padre che andava in un negozio quando era giovane e diceva vorrei un pacchetto di caramelle miste da due lire e allora il negoziante sorrideva gli diceva te ne do una gialla e una rossa mescolate lì da solo quindi al di là di una certa dimensione non puoi avere le caramelle miste e quindi al di sotto di una certa dimensione non puoi costruire un'esperienza quindi l'esperienza implica la costruzione quindi di un lavoro in rete non c'è poco da fare quindi la rete è fondamentale esattamente e quindi da questo punto di vista tanti pensate Namibia ha costruito quindi reti di collaborazione tematiche questo si chiama Adventure Travel che ha poi costruito un summit che prende quindi tutti gli operatori che guarda caso propongono un'offerta avventurosa che guarda caso guarda caso rappresenta uno dei posizionamenti della Namibia e quindi da dove si è partiti quindi mettendo insieme insieme gli operatori e allora da questo punto di vista abbiamo quindi analizzato tutte le condizioni al contorno quindi prima di arrivare quindi al concept esperienziale pensate che sia facile invece ci sono tante cose da fare ho quindi tre elementi che sono quindi la definizione dell'intensità esperienziale quindi l'intensità dell'innovazione di cui abbiamo parlato e quindi scusate ho tre possibilità la prima mantengo la situazione com'è mantengo la situazione com'è prendendomi il rischio che l'offerta sia insoddisfacente oppure mantenendo la situazione com'è perché ho fatto la mia analisi consapevole e ho visto che quello che sto proponendo è ancora valido allora come si dice testa che non è rotta non si fascia e quindi da quel punto di vista se il prodotto è come dicono gli americani if it is not broken don't fix it quindi se funziona continua a usarlo quindi non l'innovazione per sport l'innovazione perché è necessaria se il mio prodotto attuale va bene lo mantengo chiaro no? quindi non sono dell'idea dell'innovazione solo per farla due prendere la mia innovazione e lavorare per migliorare i punti di insoddisfazione sulla base di analisi attente quindi faccio un'analisi il mio prodotto va bene ma ha delle criticità che sono A, B, C, D, E benissimo metto a posto A, B, C, D, E il mio albergo è vetusto il mio albergo non ha wifi il mio albergo ha un problema eccetera eccetera cerco di mettere a posto queste cose in maniera tale che possono essere elementi fisici o elementi anche di tipo diciamo esperienziale eccetera e quindi aggiusto la mia offerta oppure progetto e realizzo esperienze mirate e quindi progetto esperienze mirate per specifici segmenti e questo lo posso fare in due modalità come vedremo quindi lavoro sulle esperienze insoddisfacenti lavoro sulle esperienze quindi soddisfacenti che cerco di portare sulle esperienze wow in una piramide quindi non è che come si dice Roma è stata costruita in un giorno solo è un processo graduale di miglioramento costante perché ricordatevi l'ottimo è nemico del bene e quindi a quel punto di vista a raggiungere l'ottimo poi non come si dice si fanno le analisi su analisi quando sei pronto per partire il mercato è cambiato quindi bisogna avere anche un approccio come si dice da imprenditore sapete che gli imprenditori sono tutti strabici perché sono strabici perché hanno un occhio al presente e un occhio al futuro per questo si dice che sono strabici un occhio alla quotidianità e un occhio invece al futuro per questo si dice lo strabismo lo strabismo degli imprenditori che è un buon strabismo che è corretto che sia così e quindi l'operatore deve essere strabico ma non miope quindi questa è come dire la cosa importante come deve essere l'innovazione ci sono quindi due possibilità legate all'innovazione l'innovazione può essere un'innovazione che parte dal prodotto o che parte dal mercato dato che noi dobbiamo costruire una matrice prodotto-mercato non ha alla fine importanza da dove parto io posso partire da un prodotto che reputo eccellente dicendo a chi lo vado a vendere oppure posso partire da un segmento e gli dico cosa gli vendo a questo segmento e quindi da questo punto di vista è indifferente l'importante che ci sia questo incrocio tra quindi tra offerta e domanda e quindi da questo punto di vista vediamo che la definizione dell'offerta può essere market driven o product driven e quindi che cosa vuol dire vuol dire che l'offerta market driven è un'offerta che è costituita a partire dal mercato identificato personalizzando possibilmente il prodotto esistente se adeguato o ricorrendo a una riconfigurazione radicale del prodotto servizio nel caso che questo non soddisfi le esigenze del mercato segmento target preso in considerazione ci siamo mentre parliamo di product driven quando l'offerta viene ricostruita a partire dalla base di prodotto o servizio già esistente adattandola quindi alle specifiche esigenze e esperienze del mercato target ok non ha importanza è come nel matrimonio non ha importanza se sia lui che si è dichiarato a lei o lei che si sia dichiarato a lui l'importanza è poi alla fine che si sono fidanzati quindi poi come dire dal nostro punto di vista il resto è un dettaglio ok quindi sulla base di questi elementi andiamo a costituire quindi gli elementi del piano strategico trasformato in concept esperienziale che cos'è il concept esperienziale ve lo dico domani perché sono le due di questo l'unico che cos'è la prima che cos'è la prima che cos'è l'unico che cos'è la prima